Tra i 20 è scattato l'allarme, siamo corsi qua immediatamente dopo i 5-6 minuti, tempo di arrivare, ma c'erano già qua le forze dell'ordine che ringrazio e niente, il danno era stato fatto. Hanno usato un furgone come Ariete, rubato poco prima un imprenditore edile della zona e frantumato la vetrina di un negozio di biciclette da corsa e hanno rubato bici e attrezzature di pregio per un valore complessivo che si aggira sui 200.000 euro. È accaduto nella notte di giovedì 22 agosto intorno alle 3.20 ad Azzano Decimo nella centralissima viale Rimembranze. Secondo una prima ricostruzione ricavata dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze dei vicini dell'area del furto, alcune persone con il volto travisato dopo aver lanciato il veicolo commerciale rubato precedentemente a un imprenditore edile contro le vetrate si sono introdotte nel negozio e hanno portato via 15 biciclette di marca Pinarello e Villier, fuggendo subito dopo. L'azione è avvenuta nell'arco pensate di meno di tre minuti. L'area furtiva è coperta da assicurazione. Sul posto giunte cedermente le pattuglie del radiomobile dei carabinieri di Pordenone e della stazione di fiume Veneto. Sì, se mettiamo in conto un po' tutto, sono cifre molto molto enormi. Immaginiamo che è tutto coperto da assicurazione, questa cosa è importante. Sì, non si può aprire un'attività del genere senza un'assicurazione, mi pare il minimo. E da spirito friulano, come lei è, si riparte subito perché oltre il danno bisogna continuare, la vita continua. È una frase fatta, però insomma... No, assolutamente sì, anche perché delle bici che mi ha portato via erano già state vendute e dovevano ritirarle, quindi bisogna subito ripartire e accontentare i clienti. No, assolutamente sì.